Il Comitato Pro Casazza nella mattina del 5 marzo ha presentato ufficialmente l'evento che si terrà il 19 ed il 20 marzo. L'imponente macchina organizzativa che ha coinvolto praticamente tutta la città di Nicosia, dall'associazione di volontariata a quelle culturali, le compagnie teatrali e tanti privati cittadini, è da tempo in moto per far ritornare in città questa antica tradizione. La Casazza è una rappresentazione itinerante, figurata con personaggi in costume d'epoca, divisi in gruppi simboleggianti episodi dell'Antico e del Nuovo Testamento. Nel XVIII e XIX secolo Nicosia era uno degli eventi più importanti di tutta la Sicilia, che coinvolgeva oltre 4.000 figuranti con 36 rappresentazioni e con oltre 20.000 spettatori. Ad illustrare questa antica manifestazione il dottor Giovanni D'Urso, studioso della Casazza Nicosiana, insieme a Salvatore Lopinzino hanno riscoperto, attraverso le cronache dell'epoca, come si svolgeva questo evento. Quest'anno sono previste tre rappresentazioni in tre luoghi da riscoprire e da rivalorizzare. L'ingresso di Gesù a Gerusalemme, il tradimento di Giuda e l'ultima cena. I luoghi prescelti sono Piazza Caprini, il Rudi del Convento di Santa Domenica e la Chiesa di San Biaggio. Presente alla conferenza stampa l'amministrazione comunale con in testa il sindaco Luigi Bonelli e l'assessore Ivan Bonomo. L'impegno della Giunta non è stato solo logistico ed organizzativo, ma anche economico, contribuendo con 5.700 euro alla realizzazione della manifestazione, per un costo complessivo di 15.000 euro che verranno coperti attraverso i contributi dei visitatori. Presenti anche i rappresentanti delle diverse associazioni. La Moica con la presidente Bettina Cascio Gioia, che si è occupata dei costumi, così come la Feder Casalicche con la presidente Mariella Maria. Le quattro compagnie teatrali impegnate e rappresentate da Filippo Giangrasso di Briciole Tarte, Pina Laggiusa, presidente dell'Ecomuseo Petra da Sgotto, e Michele Casalotto della Prologo di Nicosia. La promozione marketing con Fabio Bruno, presidente dell'MDT, e Salvatore Burrafato dell'Ecomuseo Petra da Sgotto, attualmente impegnati nella promozione dell'evento, con trovate simpatiche e coinvolgenti, come quella degli striscioni con i versi del Padre Nostro in siciliano. Sono oltre 200 i figuranti impegnati, ma sono tanti che lavorano dietro le quinte per la riuscita dell'evento. La fase di prenotazione per assistere alla Casazza attualmente ha visto in soli tre giorni 600 prenotazioni, un numero che fa capire la portata dell'evento. I visitatori saranno organizzati in gruppi da 150 persone. Durante la giornata ciascuna rappresentazione verrà ripetuta per sette volte. Nelle intenzioni del comitato c'è quella di organizzare per tutto l'anno questo evento. Le rappresentazioni del Vecchio Testamento dovrebbero avvenire in estate, mentre nel periodo natalizio vi saranno rappresentazioni che riguardano la natività e nel periodo pasquale invece episodico la passione e la morte di Gesù.